all'amico sei benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su life is strange ok allora come avete potuto vedere all'inizio ho messo una un'altra sigla perché perché ringrazio chi me l'ha fatta ringrazio adesso non ho il telefono comunque saluto tipo rox del genere e lo ringrazio anche soprattutto per avermi fatto questa sigla grazie mille è molto bella ok allora abbiamo visto abbiamo diciamo iniziato il terzo capitolo cioè il terzo episodio e abbiamo anche visto che comunque a chloe ci aveva mandato un messaggio e ci aspettava fuori dal insomma dalla dal parcheggio fuori l'accademia diciamo abbiamo anche visto che purtroppo kate è morta sinceramente ancora stato tipo un po in drama o cose del genere perché sinceramente non volevo assolutamente che morisse ok eravamo arrivati a questo punto no che stavamo uscendo ok quindi c'erano che merda oh merda che paura ah sì sì ho cliccato bene però il gioco era sempre ok ok quindi qualche parte è ci dovrebbe aspettare ci dovrebbe aspettare noi ok comunque vi ricordo anche che siamo entrati diciamo nella nella festa del vortex club adesso non mi ricordo chi c'era però insomma comunque qualcuno c'era alla fine ne o che, cosa significa anche la fine non mi ricordo cosa che. invece di farlo non mi ricordo questo difetto bia c'era e c'era 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 Non sto cercando di essere una b***a, ma non avrei mai avuto l'immagine di Kate scomping sull'escrizione, perché mia potenza non funziona. Non significa nulla. I know seeing Kate fallo è vero, ma non sapevo capire con l'escrizione, quindi faccio come un idiota. È già l'ospiriamo. Infatti... No, non è... Sì, forse un pochino, ma non avevamo neanche le altre cose per incolpare gli altri, quindi... Guarda Kate, Rachel, sì, ci interessa, è la miglior amica di Chloe, però... Non solo loro. Potrebbe esserci anche qualcun altro che vuole, diciamo, un pochino romperci le scarse. Lei è morta. Non lo so. Quando non so. Non era tanto per iloquile che cosa cliente. Max Ma 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 Sto spendo una luce là Ingerire la ventala qui Per caso così Chi è? Qui è? Victoria con il prof. Jefferson Si Troppo Sì Questa è Questa è Questa è Questa è La mia Cioè Sta seducendo Diciamo soltanto per andare a San Francisco Per vincere Che cattiveria Mamma mia Che ricatti Cioè E' proprio i tuoi Sì Sì E' proprio i tuoi Boh Boh Infatti In realtà Già da Già da un sacco di tempo fa Chloe Le cose erano Abbastanza serie Che perché abbiamo incontrato Le impresi Nella fuori al dormitorio Tipo What? Sì Sicuramente Sicuramente Ho un po' di paura Entrare nella Nella scuola Così di nascosto Eh Infatti Infatti Sono comunque tutti i due maggiorenni Ma perché? Non c'è Un'altra porta E il nostro lavoro Ok Non credo ci siano altre cose da fare Visto che Chloe Entra da di là O no? Vabbè Magari c'è Non credo ci sia Diciamo Il capo della sicurezza Però Eccolo là? Beh Stiamo a questo punto Non credo Ok 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 Cerchiamo questa chiave Da qualche parte Da qualche parte sarà qui no? In qualche cassetto Comunque in qualche roba Da qualche parte Qui dovrebbe sta Cioè Insomma Potrà nascosto da qualche parte Magari anche Cioè Magari il presidente si Ha la sua La sua chiave Però Una di riserva Se l'avrà Pello da caccia Aspetta Andiamo qua Eh Quale piano? Stai tipo dormendo Però Va bene lo stesso Che cosa? Perché? Sì Sì Solo per curiosità Così Perché insomma Sarebbe Credo che Warren abbia capito qualcosa Io ho detto No no tranquillo Ti servi solo per copertura Quindi Credo che Warren abbia capito un po' il gioco Di voi amati Ok C'è un messaggio Ce l'abbiamo Lo spero Vediamo chi Chi riesce Prima Ok Allora Grazie Warren Sto ancora elaborando qualcosa Non voglio disturbarti Voglio solo Consolare come stai So che oggi È stata dura Ma hai fatto Più di quello che avrebbe Potuto Fare gli altri Per aiutare Kate Solo chiedo di te Ti prego Non preoccuparti Di andare al drive in Ma se vuoi evadere Al pianeta delle scimmie Andiamo E se hai bisogno di parlare Sono sempre qui in pace Grazie Warren Sto ancora elaborando la cosa E inoltre Il prof. Jeff for the sun È stato È stato cacciato dal suo stesso concorso Come un somaro Ti chiamo dopo Ok Fai attenzione Adesso 007 Devi trovare 4 ingredienti Zucchero Lattina di gassosa Nostro adesivo Clorato Di sodio Ecco come devi fare Vabbè Ci ha fatto un disegnino Domande Clora Eh vedi Clorato Che cos'è È una polvere Che serve per creare Biosido di cloro Bravo bravo Merda Tutti lo sanno Quindi ci provare sul serio La parola chiave È provare Mi chiedo la tua saggezza Ok Se devo sentire Sentire la tua voce Ricorda di cosa abbiamo parlato Eri lì per la tua amica Quando nessun altro c'era E Kate Ha preso la sua decisione Nessuno poteva aspettarsi Di più Di quel che hai fatto Sei il nostro eroe E temi moltissimo Maxime Chiamaci in qualsiasi momento Se vuoi Parlare O venerci a trovare Grazie mamma Devo essere sincero Cos'è? Cistino Cerca cosa? Ah una lattina E allora Scusa Ci sono i Come si chiama? Distributori Dove? Ah eccoli Eh No 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 Sinceramente non so Di preciso Non mi ricordavo neanche Che dovevo prendere una lattina Dovevo essere sincera Però Dai Prendi Ok Beh Dopotutto Chloe ha perso La sua migliore amica Ossia Rachel E noi Abbiamo perso La nostra migliore amica Mini Eh La nostra migliore amica Ossia Kate In pratica Siamo tipo pari Però ci siamo ritrovate Ok Che compito Ah lo zucchero Grande Bene Cosa? Solo una B- Warren ha distrutto La mia fede Uh Possiamo cambiare i voti Raga Lo faccio per Warren Ah Vedete Eh non mi interessa se è conto Tanto nessuno potrebbe dire È stata Cioè Non sono stata Max Chi è? Warren Eh Ho cliccato Ah no Adatto Sei ancora lì? Sei scoppiata? Max Sono qui Non sono scoppiata Non ancora Devo concentrarmi ora Ci sentiamo dopo Ah è Cioè è mezzanotte e 18 Sono molto felice Sono felice Sono felice Ma in pratica Che altro dobbiamo cercare? Aspetta Non me lo ricordo Non mi ricordo dove Ah Chloe? Devo farti vedere una cosa Dipendiamoci Eh Sì ma questo già l'abbiamo visto No Eh Devo vedere Warren Dov'è? Allora Allora Mi serve La lattina ce l'abbiamo Lo zucchero ce l'abbiamo Serve l'asse adesiva Al clorato di sodio Ok Vediamo dove trovare Ste robe Materiale di chimica Ok Allora Dobbiamo soltanto provare Ad andare in giro Non lo so Ah Potremmo provare Alla nostra classi Che dovrebbe essere questa qua Giusto? Sì Magari anche noi abbiamo fatto un compito Sia qualche Voto da cambiare Quanti tipo sta canzone Lettera Te la posso dire Da Presidente Wells A Mark Jefferson Caro Mark Volevo solo inviarti Una lettera informale Per farti sapere Che la Blackwell Sta conducendo Un'indagine Riguardo agli eventi Di questa settimana Riceverai un avviso ufficiale Per posta Ma meriti di saperlo adesso Rispetto il tuo lavoro E la tua reputazione Qui alla Blackwell E spero che Non penserai male di me In questo momento Molto difficile Spero che tutto questo Si risolva In tuo favore Abbiamo messo un po' nei guai Devo essere sincero Però Fotografia Oddio Scusate Beh Lei lo vedrà benissimo Questo è sicuro Però Vabbè sicuramente Secondo me Anche per me Lo che ci ha fatto in ritardo Cos'è? Vittoria Cigarette I'm sure Mr. Jefferson Is impressed Sinceramente anche io Non me l'aspettavo Allora Ma che bella stampa Oh oh Oddio sì L'abbiamo messa Ma comunque C'è una stampata Comunque qua c'è l'astro adesivo Basta Però È Il cloruro di sodio Dove essere da qualche parte Nel laboratorio di scienze Cioè è impossibile Sarà qualche Comunque dobbiamo sbrigarci Non voglio che L'apra prima Lei Che l'apra prima Che l'apra prima Chloe L'aporta Ma dove però Che cosa Di Di serbante Cos'è? Ah ok Non farla cadere però Sì infatti Fai prima Senza creare casini Ok Ci abbiamo tutto raga Cosa? Ma? Questa l'ha fatta la sigaretta Che c'è? La cosa con la sigaretta? Ma che cos'è? La foto ce la merita tutta Se la merita proprio Ok Quindi dobbiamo tornare da Chloe Facciamo questa roba Non siamo al posto Oh Kate Il cloruro si sembra molto solitario Sinceramente adesso Tutti gli armadietti Sembrano solitari Non solo quello di Kate Però Ehi hey Sì Che di male Sì ma ci sentiranno tutti comunque Sì ma Sì ma Ho un'idea Stai zitta Entriamo E facciamo così In modo che noi ci ritroviamo qua dentro E lei ancora sta cercando di aprire la porta Giusto? Sì 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 Ok ragazzi Io però direi che possiamo fermarci qua con questo episodio Lasciate mi piace Commentate Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto Ciao a tutti Ciao a tutti